Signora Marisa, come ha vissuto questo momento di oggi, questa giornata di oggi al corso in cui ha deciso di passare da un cellulare non smart a un cellulare smart? Diciamo che è tutto mondo nuovo per me, perché io non ho mai usato nulla di tecnologico avanzato come uso oggigiorno, ma è interessante, è un modo di anche alleguarsi alla vita di oggi, per poter vivere è indispensabile poter accedere all'internet e imparare come poter gestire anche il tutto. Quali sono i programmi che le interesserà più usare una volta che avrà fissato il suo smartphone? Quali sono le applicazioni che le mancano? Beh, io credo che sarà piacevole fare delle belle foto, poterle condividere, poi poter andare su internet su tutte le cose a livello di mappe, e di organizzazioni, di informazioni su tutte le cose che si possono avere. Quindi essere sempre in contatto con tutti gli smartphone a lei vicini. Va bene, la ringrazio tanto e allora buon acquisto per i prossimi giorni e ci rivediamo al corso col suo nuovo smartphone. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci.